Ragazzi, ho appena finito di editare il video e vi posso assicurare che è venuto una bomba. Mi raccomando, guardatelo fino alla fine. E, un'altra cosa importantissima, cliccate sul primo link qui sotto in descrizione se volete acquistare dei giochi ad un prezzo scontatissimo, fino al 70-80%. E niente, detto ciò, buona visione. In una galassia lontana lontana... No, aspetto, ho sbagliato. Non tutti sanno che nella galassia di Rainbow Six Siege si celano molti misteri. Ma molti misteri, i vari bug, possono essere un esempio, ma anche un altro misterio. Misterio? Cosa? Ma un altro mistero. Praticamente nessuno conosce questo mistero. Oggi andrò a svelarvelo. Nella galassia di Rainbow non c'è un solo mondo. Non c'è una sola vita. Ci sono così tanti mondi che non avete neanche idea. E mi sta lacrimando un occhio. Porca di quella put... Ciao ragazzi, sono Lele e benvenuti in questo nuovissimo video. Che non è un video dove parlo. Cioè, nel senso, non parlerò di cose. Ma giocheremo. Come avevo detto nel primissimo video, non porterò soltanto mie esperienze oppure video dove parlo di cosa ne penso riguardo a SpongeBob. Ma porterò anche gameplay. E siamo in compagna di un mio carissimo amico, ovvero Checco. Detto Checco. Bellissima a tutti. Bellissima. Non ho finito dentro un coso. Ovviamente, realismo tattico perché... Almeno, facciamo più schifo. E nulla. Eh, sennò per quale motivo direi, scusa. Esattamente. Cioè, noi registriamo perché. Non perché siamo forti. Tipo, comunque facciamo che gara il cazzo. Quindi noi registreremo proprio per questo motivo. Io non so perché sto lasciando come la vita. Ma va bene. Non so neanche dove tu sia spawnato, vorrei precisare, quindi... Ottimo. Ti apro la vita. Bella, mi hai aperto la vita. Cazzo. Rifare per la quinta volta la stessa tattica non mi sembra il caso. No, direi di no. Dovete capire che prima abbiamo fatto una... Sempre un 1v1 con cose normali, tutte normali. Però sempre in questa mappa, eh... E niente, ho usato la medesima tattica per, tipo, tre volte e... Tre volte è andata male. Eh, comunque... No, dai. Non fare così pessimista. Però dai, dove cazzo ti vai a finire tu con le bombe? Non so. Sei upstairs? Sì. Porca troppa. Sei stato tu? Mi sono cagato in mano. Porca! Dai! Avevo fatto una fegata. Quando sei l'operatore meno silenzioso del gioco. Quando sei l'operatore meno silenzioso del gioco. Ma poi col pompa t'ho beccato. Ma che... Mi hai beccato? Sì, t'ho beccato. C'era tutto il sangue sul muro, dai. Signori. Ma come si è avuto... Guardatelo voi e vedete se mi ha beccato. Ma ha beccato? Ma che caro? Ma no, ma ha beccato. No, mi hai beccato. No, t'ho beccato, infatti. Ma con un pompa mi dovevi togliere la vita. Ma proprio... Vabbè, ma no, ma a parte la vita, ti ho beccato in testa. E appunto dovevi togliermi la vita, l'anima, mi dovevi far risuscitare, dopo dovevo morire di nuovo. Nel frattempo, in un altro pianeta... Anzi... E questo è tedesco. Ma va bene. Che cosa vuol dire? Vorrebbe dire... No, questa non la posso mettere. No, in realtà non è così. È leggermente differente. Tipo... Da un... Ecco, questo. Non lo posso mettere lo stesso, zitto, basta. Ti voglio bene in tedesco, da... Ti voglio bene in tedesco, da... Ti voglio bene in tedesco, da... Bene ragazzi, è cominciato il round. Ehm... Moriremo male, io ve lo dico. Ma... Non devo farlo io. Stavolka. Aspetta. Vai, scavalca. Volevo comunque farlo io. Ah, invece non potrai. No, figlia di una grandissima... Dove, dove, dove? Alibi. Frate, dove? Sotto. Era là. OMG, ti ha rubato la kill tantissima. È una puttana! Calmati, però. Sleggio, è una puttana! Spero non ci si... Eh, vabbè, ma... Magari è italiano. No, dubito che... Oh my god, Tommy sia italiano. Oppure sì. Non ci credo. È impossibile che sia italiano. Ma perché la gente è stupida? Ma guarda! Guarda qui, guarda! Chi cazzo ha rinforzato? I problemi! Tommy? Ti prego, Tommy! 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 Se non mi risponde... RIP. Tommy, ma cazzo! 100 di 100! Ok, penso che questi qua nella partita mi sono andato del pazzo. Ma tu sei pazzo, è diverso. Non è che ti danno così del pazzo. Tu sei pazzo! No. No. 100 di 100! Niente, non mi rispondono. Michi! Che cosa ti dovrebbero rispondere? Coglione di me! Sì, baby. Vuoi essere il primo e mi f***i ogni volta? Il video è più bello. Ho fatto bene a registrare pure sta partita, fra... Ti sono uccisi! E' bellissimo! Ah, bellissimo, è bellissimo! Bellissimo! Scusa, 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 ti ho ucciso la vita, la vita, non ci credo, sono per quella cazzo di vita, ma che cazzo di scusa, ho qua l'altra di vita, ho sbagliato, ho sbagliato. Ho sbagliato. Entra i 360, ti prego. Stornate a occuparvi di... Le micchie! Stornate a occuparvi di... Stornate a occuparvi di... Stornate a occuparvi di... Stornate a occuparvi di... Non ci posso guardalo! Che infame! Stai scusa di... Anche Glaz, veramente, ha una vista. Ha una vista, più che altro. Cos'erano quei versi, scusa? Cosa, così? Eh, sì. Non lo so, eh. Poca morta, sembri. La poca morta è più la mia risalta, va bene. Tommy! Tommy ha preso la tua... Tommy! Tommy! Che chiudere, Roma? Non mi calcola, sto essere umano. Non mi vuole bene! Non mi vuole bene! Che vuoi a riforzare la bovola? Bro, però, anche se non spari, cosa a caso? Eh... Tipo bambini. Bambini, oggi ti sparerò. Non è che sparo voi, sparo proprio voi. Vi han perso! No, non mi era piaciuta sta partita. Eh, era carina, ma... Sì, poi con le cose successe... No, molto bella. Vabbè, signori! Il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Eh... Vi chiedo di seguirmi su Instagram. Seguite anche Checco. Vi lascerò il link qui sotto in descrizione. Vi chiedo gentilmente anche di seguirmi su Twitch. Eh... Dove ogni tanto faccio qualche live dove possiamo giocare insieme, parlare insieme. Insomma, fare cose insieme. Suono male. Eh... E niente. Sì, abbastanza. E nulla. Alla prossima, regà.